Matteo Balestrello, bentornato dalla Croazia. Prima di parlare di cosa è successo, del risultato, io vorrei fare non uno ma due passi indietro. Vorrei tornare al 2016, un anno abbastanza felice, con dei risultati di tutto rispetto. Direi sportivamente felice, è stato l'anno dell'esordio con il Merges 32, siamo partiti un po' come gli outsider della classe, pensavamo alla definizione, volevamo essere la mina vagante della flotta, in realtà già dal secondo evento siamo stati tra le barche da battere, quindi con bell'età di classifica e siamo arrivati poi alla fine della stagione a giocarci circuito e campionato europeo. Devo dire con grande soddisfazione, sebbene per un punto l'abbiamo perso contro Mascazzone Natino, ma è stato assolutamente straordinario riuscire al primo anno a fare comunque secondi, sia nel circuito che al campionato europeo. Bene, 2017, iniziato alla grande. Prima tappa a Portovenere, vinta. Vinta, seconda tappa a Scarlino, vinto. Terza tappa, Riva del Garda, quinti, ma con qualche scusante perché per problemi personali sono arrivato il sabato mattina e comunque abbiamo fatto un buon risultato, probabilmente con lo scarto avremo vinto anche la tappa di Riva del Garda, lo scarto non è subentrato, sono state disputate soltanto quattro prove e basta, ora si aspetta il mondiale. Allora, abbiamo fatto un rewind, 2016, 2017, manca un pezzo. Non è successo niente questo weekend, Croazia. Non so di qua stiamo parlando, non c'è mai stato un campionato europeo in Croazia. Mai stato un campionato europeo. Mai, noi non siamo andati. Quindi sei ancora primo nella classifica delle awards? Deve essere successo qualcosa, ma non... Perché non sei più primo? No, non siamo più primi, ma a me non risulta che ci sia stato il campionato europeo e l'hanno fatto forse gli altri, battuta a parte, l'hanno fatto gli altri perché noi non siamo andati. Grande merito e complimenti a tutto il team di Torpione che lo ha vinto con grandissimo merito perché ha fatto un grande campionato europeo e agli altri che hanno fatto la loro parte. Manchiamo noi all'appello perché indiscutibilmente eravamo una delle barche con bell'età di classifica e abbiamo completamente cannato l'evento, possiamo dirlo. Sì, puoi dirlo a voce alta anche perché veramente una classifica di Gioji con dei numeri così indecenti, diciamolo, non si vedeva neanche nella prima regatta. Credo che abbiamo fatto più punti nella tappa di Sebenico che in tutte le tappe precedenti. A questo la dice a lunga. è andata così, bisogna, lo sport è anche questo, va preso nel bene e nel male. Ci sono i momenti di forma, ci sono i momenti di minor forma, i momenti in cui si raccoglie magari qualcosa di più di quello che si è seminato, i momenti in cui non ne va giusta una neanche per sbaglio. Credo che l'ultima che abbiamo detto sia abbastanza calzante con la tappa di Sebenico. e una domanda cattiva. Ti sei presentato a un campionato europeo con il solito equipaggio, però mettendo su le vele vecchie. Me la spieghi? Allora, noi abbiamo certamente rispetto alla flotta un budget che è, diciamo, più a te, più contenuto. Abbiamo focalizzato la stagione ovviamente sul circuito, ma considerando come evento importante il mondiale che si correrà ad agosto. E quindi, avendo un numero di vele non così illimitato, abbiamo conservato la randa nuova che abbiamo usato soltanto a Scarlino per il mondiale e le vele che devono arrivare arriveranno per il leggero, il medio, arrivano per il mondiale. Diciamo che a Sebenico siamo arrivati con un programma vele probabilmente un po' scarico, però bisogna essere anche onesti e dire che non è solo con questo che si giustifica un risultato comunque al di sotto delle aspettative. è una giustificazione soltanto parziale. Probabilmente non l'abbiamo preparato, non siamo arrivati preparati nella maniera, non abbiamo preparato l'evento nella maniera giusta. Un po' hanno influito sicuramente le vele, un po' l'interpretazione di un campo di regata che non abbiamo mai capito, con cui abbiamo fatto a botte per tre giorni un campo, devo dire, molto difficile, noi ci lamentiamo sempre del nostro golfo, devo dire che in questo caso il nostro golfo si può anche rivalutare, sebenico è un posto bellissimo ma il campo di regata è molto costretto, un campo per il 32 oggettivamente ci sta in maniera molto risicata, facciamo un bolline di un miglia e due e l'influsso delle isole è fortissimo, quindi un campo veramente con una variabilità di intensità e di direzione assolutamente straordinario e noi abbiamo fatto veramente fatica a comprendere la frequenza dei salti. chiaramente siamo stati in fase con il colvento, in una flotta, anche questo va detto, dove tutti sono bravissimi e quindi le piccole sfumature fanno grandi differenze. Ci dici qualche nome che c'è sulle altre barche per far capire giusto che non siamo alla regatina qua nel golfo? Sto parlando di eventi velici di serie A, l'imbarcazione che ha vinto Torpione è un'imbarcazione che ha come randista Rufo Bressani che quella che la settimana fa ha vinto il mondiale Orca ma che ha l'ottavo titolo europeo, c'è un palmarès che credo che ogni velista conosca perfettamente, il randista è Alberto Bolzan, alle scotte c'è un olimpionico spagnolo, il secondo trimmer della barca è Ias Farnetti che è un timoniere di 4,70 che ha fatto il quadriennio olimpico, il secondo classificato, su Inga ci sono Vascotto, Michetti, Giovanni Cassinari, su quella barca su Vitamina c'è Gabriele Benussi, su Eker la barca turca che è una barca che è regata a metà classifica, c'è come randista Scott Nixon, è un'imbarcazione su cui il livello dei tre professionisti gruppo 3 è un livello di velisti che contempla olimpionici e o gente che fa Coppa America, quindi parliamo di… Gotta della vela Gotta della vela, di professionisti veri che non ti permettono, cioè che non ti permettono nessun errore, cioè il minimo errore viene fatto pagare tantissimo. Resta comunque il fatto che siete veramente in fondo alla classifica in questa tappa, cioè errori secondo me ne avete fatti troppi, si è rotto qualcosa a bordo? No, non si è rotto qualcosa a bordo, abbiamo semplicemente sbagliato l'approccio e l'evento e tra virgolette questo l'ha preso anche positivamente, tutto quello che pusteva succedere di negativo ci è successo, faccio… abbiamo preso quattro penalità su quattro prove, su sei prove, cioè in sei prove abbiamo fatto quattro… abbiamo avuto quattro penalizzazioni, due nella stessa regata. Nervosismo a bordo alle stelle? Un po' di nervosismo, voler magari strafare i momenti in cui non è opportuno farlo, ovviamente non essere neanche abituati a una posizione di classifica che non è la propria con una reazione che probabilmente è sbagliata, cioè invece che limitare i danni, accontentarsi di un quinto o di un sesto posto, essendo abituati a stare più avanti, si frenano delle scelte che sono tendenzialmente sbagliate, è emblematico devo dire l'ultima regata in cui a cento metri della Boa di Bolina eravamo primi. Abbiamo mancato la Boa con una possibile bretone per mezzo scafo e abbiamo girato quattordicesimo. Questo però è il livello della classe, cioè mezzo scafo ci hanno obbligato a mezzo scafo, uno scafo per una bretone a girare la Boa quattordicesimo. La finiamo qua? Non è ancora finito il circuito, manca ancora… No, no, dicevo, la finiamo qua con la sfiga? Direi che abbiamo dato, quindi speriamo un po' di sì. Ora per il Mondiale, solito equipaggio? Direi assolutamente di sì, ci prepariamo per per finire al meglio una stagione che comunque è stata di grande soddisfazione. Cristiano Giannetti non lo sbarchi, quindi? Questo dovremmo pensarci seriamente perché… bah, chissà, chissà… Vabbè, ci lasciamo così, ci sarà Cristiano… Tutti a posto… Gioggi al Mondiale c'è… C'è… Porta sfiga questa cosa perché… Volevo scrivere mica tanto, però… No… Per l'Europa… Quindi al prossimo Mondiale… Gioggi c'è… C'è… Cristiano non lo sappiamo… Vedremo… Con questo è tutto… Grazie… Ciao ciao… Ciao a tutti…